E' nato prima il fumetto e poi l'uovo o prima l'uovo e poi il fumetto? E' la prima volta che un'attrazione di un parco divertimenti diventa un fumetto web. La creatura però iniziò a spostarsi dal sito in cui le conoscete prima un'uova e per cercare di abbatterla si rese necessario l'utilizzo di caccia militare. Raptor Genetics, il primo fumetto web italiano dotato di animazione, musica, doppiaggio e sound effects. Abbiamo deciso di lanciare Raptor Genetics per aumentare la notonietà del nostro marchio e per coinvolgere e tenere alta l'attenzione di coloro che già conoscevano Raptor. Potete seguire il fumetto Raptor Genetics sul mini-sito oppure sul profilo Facebook di Gandra. Raptor Genetics è cominciato, io mi scibutto. Raptor Genetics